Quanti buchi ha la tua parete dopo tutti i tentativi falliti per appendere dei quadri? Con Stas non avrai più niente di tutto questo! Appendi dei quadri molto facilmente e veloce e attacchi il cavo nel binario con un gancio all'altezza desiderata. Con Stas anche tu puoi arredare le tue pareti esattamente come desideri tu, non solo a casa, ma anche in ufficio! Scambia la tua decorazione murale senza danneggiare la parete. È per questo che Stas è per tutti, non solo per gli artisti famosi, ma anche per gli artisti piccoli. Stas, sistemi per appendere quadri per tutte le pareti.